Ben trovati amici, siamo a Dobbiaco, siamo in compagnia di Enrico Comini e della sua fidanzata Caterina. Buongiorno. Enrico Comini è il proprietario dell'hotel Union, appunto in centro a Dobbiaco. Enrico, noi ci conosciamo da tanti anni, per cui abbiamo vissuto tante stagioni estive e quest'anno è un'estate particolare. Abbiamo già fatto il giro di boa dell'estate, abbiamo iniziato agosto e possiamo già dare i primi dati e vedere un po' l'andamento della stagionalità. Buongiorno a tutti, ciao Roberto, a tutti i telespettatori, grazie per questo invito. Eccoci, come diceva Roberto, siamo arrivati al giro di boa della stagione estiva. Il primo mese di luglio è andato molto molto bene, anche se il tempo non ci ha aiutato, però l'area di vacanza e questa voglia di spensieratezza ha contribuito che abbiamo lavorato veramente bene. Adesso ci stiamo avviando verso agosto, quindi l'altissima stagione, e speriamo che questo ottimismo resti anche per i mesi a venire, settembre e ottobre. Benissimo. Tra le novità di quest'anno ho notato che c'è la pista ciclabile, proprio qui di fronte, anzi di fianco all'hotel. Vogliamo un attimo parlarne? Grazie Roberto che hai puntualizzato su questo fatto. Noi come Bike Hotel ci abbiamo sempre creduto tanto sul cicloturismo e quest'anno siamo riusciti insieme al comune di Dobbiaco a trovare un accordo per far passare la nuova pista ciclabile a fianco dell'hotel. Quindi da una parte si va verso Lienz, quindi l'Austria, dall'altra parte verso Cortina e in un ultimo verso la Val Pusteria a Brunico. Quindi siamo praticamente nel crocevia di questi percorsi ciclabili. Tengo anche a precisare che ho scoperto recentemente che l'hotel 1 praticamente passa vicino alla pista Eurovelo numero 7 che parte dal Polo Nord e arriva a Malta. Incredibile. Volevo chiedere, ci sono ciclisti che si fermano a pernottare presso la vostra struttura? Sì, noi siamo come dicevo prima specializzati sul cicloturismo, all'interno del nostro albero abbiamo addirittura un'officina e una bike room video sorvegliata, quindi siamo scelti specialmente dai ciclisti anche quelli che attraversano per esempio la Monaco-Venezia. Benissimo. Tra le altre cose volevo appunto accennare al fatto che ultimamente è mancato Nonno Comini. Nonno Comini ha la veneranda età di 100 anni, però è stato veramente il padre fondatore di questo hotel Union. Vogliamo ricordarlo? Sì, grazie che ti sia ricordato di questa cosa, è mancato Nonno Eugenio nel mese di giugno, Nonno Eugenio è stato il fondatore dell'hotel Union che poi è stato passato a mio papà e adesso lo sto conducendo io. Nonno Eugenio oltre ad essere un bravo imprenditore è stato soprattutto una persona amata e ben voluta dal paese e dalla sua comunità a cui ha sempre dato massimo rispetto e tanto lavoro. Benissimo. Allora invitiamo i turisti e coloro che ci guardano da casa a venire all'hotel Union di Dobbiaco anche nel mese di settembre perché sicuramente è un mese molto bello. E noi per salutare tutti facciamo un brindisi. Ecco qua. Cin cin. Cin. Saluta a tutti, vi aspettiamo a Dobbiaco. Buon'estate. Buon'estate.